Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio canale Oggi siamo in un appuntamento speciale perchè c'è un ospite speciale e c'è mia sorella Ehm... qua siccome mia sorella sta un pochettino male, c'ha la febbre Allora ho deciso di fare un video di minecraftita con lei Allora stavamo scavando, così per farla distrarre un po' Ehm... qui in miniera Ehm... infatti picconi, perfetto Qui in miniera e scavando qua ad altezza 13 Andando dietro di qua, mettendo le due... le... le... le due torce Facendo della distanza qua, ho scavato per un bel po' il tunnellone, è bello lungo Potrei anche togliere il... ehm... ok No, cosa è successo? Ok, perfetto Ehm... e guardate qua ci sono dei bellissimi diamanti che io ho lasciato Ehm... proprio per... per lasciarlo qua Sono sei diamanti Cinque, davvero? Ah no, ok, sei, le avevo contate giusti Ehm... ho scavato questo... questo tunnellone perché è fantastico Ehm... ehm... è troppo bello Saluta Ale, tu ancora non ne hai salutato Ehm... allora Ale, guarda la telecamera, non... la facecam, ok? Perfetto Ehm... qua io voglio tipo iniziare, qua siamo ad altezza 13, guardatelo da qui sopra Ehm... voglio iniziare scavando un... tipo un tunnellone come ho fatto per questi blocchi Ehm... togliamo queste due torci perché tanto già abbiamo tolto Facendo... come ho fatto tra questi due Ho iniziato da questo di qua, non lo so, ma lo sentivo evidentemente che lasciarono sei bellissimi diamanti Ora dovrei andare verso qua Ma prima... ehm... vorrei scavare tutto qua E fare una sorta di... di miniera anche abbellita con del legno normalissimo Che però simboleggia che qui c'è del... c'è una miniera Magari un giorno faremo la ferrovia, non so Ti piace come ideale? Magari ti invitiamo qualche altra volta nel canale? Sì Ok, non è che devi fare per ogni video, eh? Sì Ok? Sì Magari troviamo un diamante qua? Tu che dici? No, impossibile Quindi mettiamo... magari non il pezzo di torcia Ma... una bellissima... un bellissimo piatrisco Uh, ferro, pensavo che erano diamanti Poi io vedo diamanti ovunque, oramai Dopo questi sei bellissimi diamanti Scoperti totalmente a caso Perché... stavo scavando e ho detto Vabbè, arrivano ad altezza 13 Ehm... non attaccare, arreccare E se ne trovo qualcosa, registro Ehm... vediamo, vediamo Qui penso che non ci sia niente A parte questo ferro di qua Chiudi con la diorite Che è totalmente... serve la diorite? Ale, tu che dici? Serve? Sì A che serve? Boh Non serve a niente la diorite Allora, a posto di bruciarla Ehm... la mettiamo come... Per sostituire gli altri Allora scaviamo qua Facciamo l'ultimo E poi vado a prendere il legno Ehm... ho sbagliato Mettiamo... ho detto... ho detto Mettiamo qua il pezzo di diorite Ehm... scaviamo qua un altro coso E poi vado a prendere il legno Andiamo a prendere il legno Ehm... per... Ale, metti un pochettino più indietro Ho capito, metto così Ehm... allora Vai qua, piazza questo E piazza questo Ehm... prendo del legno E poso immediatamente i diamanti Che sono utilissimi Cosa vorrei fare con questi diamanti? Abbiamo anzitutto un... Ehm... un bellissimo piccone Tu che dici? Il piccone va più che bene? Sì Ok Ehm... un piccone è... Di diamante? Sì, certo Come questo che c'è qua Nel... Ok, ci siamo capiti Ehm... e poi vorrei fare Dopo scrivetemi lo nei commenti Ehm... Qua c'è la stanzetta Oh Meno male che non ci ho uccisi Perché Perdere sei diamanti È un pochettino catastrofico Stavo dicendo Qui c'è la mia stanzetta Ma da dove è spawnato tra l'altro Questo qua E' tutto illuminato Vabbè Non so da dove si è spawnato Ehm... Allora vediamo Vediamo qua Sei diamanti E prendo dei log di legno Ehm... Allora posi i diamanti qui Ehm... Ehm... Aspettate Ok Allora metti più in qua Ehm... Perfetto Ehm... Non so Non so Ehm... Allora dove sono i log? Li devo andare a prendere Perché? Perché 1, 2, 3 Prendo questi 1 e 2 E prendo questi Ehm... E se magari faccio anche un hash Che dite? Scusate questi umori di sottofondo Ma eh... A casa Non ci abito da solo Evidentemente Allora posa qua Ehm... E vai Vai da questo lato Ehm... Prendi Tutto questo Questi log Li prendiamo Sì sì Normalissimi Di... Ehm... Di... 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 Di legno di quercia Tanto per abbellire un pochettino Perché sento un mob E già sono le due creeper Mì... Due creeper E in quanto? Ma sono assassini Sti creeper Li dovrebbero pacciare un poco Tu che dici? Sì Sono troppo... Praticamente Eh? Praticamente li dovrebbero uccidere No uccidere Si dice pacciare Pacciare che vuol dire? Vuol dire che tipo Li rendono meno forti Ad esempio Tu l'hai sentito che c'era il... Questo creeper? Sì L'hai sentito? Quanto l'hai sentito? Poco fa Cosa? Ehm... Allora prendiamo Questi di qua Stavo dicendo Qua l'orticello L'ho espansuto un poco Ehm... Allora Ritorniamo giù Io non ho assolutamente Del cibo No? Perfetto Solo carne E ma carne va cucinata E siccome il carbone Non ne ho così tanto Cioè potrei prenderlo Però Ehm... Allora vai qua Vai giù Vai da questo lato E abbelliscilo Uno Due Ehm... Tre Così Perfetto Raga Così è molto Più bello Ehm... E mettiamo Le torce Qui andrebbero bene Lì Un giorno Li sostituiremo Con Ehm... Con Con dei... Con le Glowstone E vediamo Allora io voglio fare Qui però Un'altra cosa Più bella Ehm... Ad esempio Trasformare Sto scherzando Mettere Qua sopra Ehm... Asatale Potresti togliarti Grazie Ehm... Ehm... No devo Ritornare su Ehm... E un saliascendi Enorme Questo Ehm... Però va Fatto Perché Ehm... Vabbè Ok raga Comunque Allora Arriviamo su E questa cosa Dei legni Me la studio Un pochettino Ce la studiamo Un pochettino Mettiti più indietro Che non entri Nella facecam Ce la studiamo No magari così Stimicchiata Ehm... Ce la studiamo Un pochettino Ehm... Come può essere Più bella Ehm... Qua c'era Tra l'altro Del ferro Vabbè Io lo prendo Molto Volentieri Magari senza Distruggere Il cosa 64 pezzi Di ferro Non mi lamento Assolutissimamente Prendo questi Tre bellissimi Bastoncini E li metto Qua E abbiamo Il piccone Di diamanti Signori Cioè Ale Stiamo costruendo Il piccone Di diamante Nella nostra serie Principale Di minecraft Con te Ospite Cioè non ti senti Soddisfatta Ed emozionata No con l'applauso Ehm... Prendiamolo Immediatamente Ecco qua Piccone Di diamante E lo posiamo Accanto i diamanti Cioè è fantastico Raga Dopo un giorno Vedremo cosa fare Magari nel prossimo episodio Vedremo Cosa fare con questi Con questi tre diamanti Ma io già Penso di so E lo so perché Vorrei fare il tavolo Degli incantesimi Perché E' molto bello Il tavolo degli Degli incantesimi Soprattutto quando Sia otto Sia Hanno otto livelli E' fantastico Ok raga Direi che per questo appuntamento E' tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel Mi piace E' piaciuto questo video Condividerlo Commentate Condividete Ehm... Dimmi se volete ancora Mia sorella E' qui sul canale E' ci si becca A un nuovo video Lasciate il mouse là Ci si becca A un nuovo video Ciao ciao raga Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.